Ari bentornati sulla soffitta più sudata che c'è proseguono le storie di Dario Argento presenta Profondo Rosso questa volta andiamo a leggere la seconda storia che è La Terza Madre ogni storia come sapete è ispirata ad un film di Dario Argento di questi fumetti trovate anche la recensione in soffitta era una rivista nata per promuovere soprattutto gli store di Profondo Rosso di Dario Argento non mi resta che augurarvi buona lettura con Dario Argento presenta La Terza Madre buoni brividi Grazie a tutti 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 Noi ci vediamo